Presidente Vendola, dopo una quiete è tornato il caos a Istanbul in Turchia, la preoccupa e cosa ne pensa di questa situazione e come bisogna agire? Soprattutto penso che le democrazie di tutto il mondo debbano alzare forte e chiara una voce di contrasto alle pulsioni repressive del regime turco. C'è una grande domanda di laicità, di libertà, di democrazia in una grande nazione moderna come la Turchia. Penso che soprattutto tocchi all'Unione Europea ricordare all'amico turco che le scene che abbiamo visto in piazza, la brutale repressione di una giovane generazione che avanza le proprie istanze di libertà sono queste scene inaccettabili, sono la violazione di qualunque standard di democrazia reale.